Onorevole Ismaele Lavardera, oggi è start con il tesseramento anche per gli amici di Agrigento e provincia. Sì, Sud di Chiamanord parte ufficialmente, ma di fatto è partita qualche mese fa, ma adesso è arrivato il momento di strutturarci nei territori, è arrivato il momento di dare spazio a tutti quei nostri sostenitori che ormai da tempo ci chiedevano di partecipare all'attività politica del nostro movimento. Quindi oggi, insieme con il coordinatore regionale Danilo Giudice, stiamo lanciando il movimento in ogni provincia, quindi diciamo che a me è il compito di in qualche modo coordinare la provincia di Agrigento e quindi da oggi partiamo, partiamo perché sappiamo che c'è un grande spazio per il nostro movimento, Sud di Chiamanord ha avuto un grande successo alle elezioni regionali e nazionali, ma è arrivato il momento di partecipare attivamente anche alle competizioni comunali. È stata una notte insonne anche per lei, una lunga maratona di 19 ore, soltanto all'alba è finita la seduta, con la finanziaria approvata, quale suo giudizio? Sicuramente sì, sono stato fino alle 7 del mattino sveglio, però volevo esserci qui per arrivare, per dare una risposta anche agli amici di Agrigento. Il giudizio è assolutamente un giudizio, diciamo, onestamente una maggioranza che ha poche idee e confuse. E onestamente diciamo noi all'interno di questa storia abbiamo dato il nostro contributo, il nostro modesto contributo, tutti gli emendamenti portati da Sud di Chiamanord e Sicilia Vera sono stati emendamenti che hanno in qualche modo alzato il livello delle proposte di questa finanziaria, perché onestamente l'opposizione, quale noi siamo, è un'opposizione che vuole semplicemente non fare il grido, quello non funziona, quello non funziona, ma anche una proposta. I nostri emendamenti che difendiamo sono emendamenti che rispondono a esigenze del territorio. Non abbiamo fatto marchette, a differenza di qualcuno. Lei è stata una Iena, in questi giorni l'abbiamo visto protagonista sulla vicenda Matteo Messina Denaro. Qual è la sua considerazione ancora in merito? Sì, è una vicenda che sicuramente ancora ha delle evidente chiare oscure da mettere in qualche modo in condivisione, perché tante cose non sono chiare, però lo Stato sicuramente deve festeggiare perché un latitante è stato garantito alle patrie calere, tante cose ancora sono poco chiare. Insomma, sono convinto del fatto che la Procura in queste ore, in queste settimane, sta facendo un lavoro per risalire a quella rete di fiancheggiatori che hanno permesso una latitanza a Matteo Messina Denaro, che onestamente per oltre 30 anni è un po' inspiegabile. Sud chiama Nord, non si ferma, avvia la campagna tesseramento su larga scala, oggi tocca ad Agrigento. Sì, anche qui ad Agrigento, dove il nostro movimento ha ottenuto anche alle scorse regionali un risultato importante, oltre 27 mila voti, iniziamo questo percorso. È un percorso che deve vedere il territorio protagonista con i tanti amici che sono stati con noi in questa avventura e che vogliono proseguire adesso non solo in quello che è un coinvolgimento sul territorio, ma anche nelle prossime competizioni amministrative. Noi puntiamo ad essere presenti con i nostri candidati nei 14 comuni che nell'Agrigentino andranno al voto e a mettere in campo quella che è la buona politica, la politica del fare, che ha sempre caratterizzato la nostra azione in tutti i comuni dove siamo stati chiamati ad amministrare e che vogliamo portare anche qui nell'Agrigentino. Grazie.